Vince Mille e un Babà 2023 Alessia Rossellino Con quattro nuovi ingredienti sapientemente combinati con i tradizionali farina, lievito, burro e zucchero Alessia Rossellino della pasticceria Gabbiano di Pompei ha vinto la nuova edizione di Mille e un Babà il contest promosso da Mulino Caputo dedicato al principe della pasticceria partenopea, il Babà quattro anche i criteri per soddisfare il palato esigente dei giurati riuniti per il gran finale della gara al Roof Garden dell'Hotel Mediterraneo di Napoli Gusto, profumo, colore ed estetica ma sentiamo dalla vincitrice il segreto del successo della sua sinfonia di Babà è un dolce comunque tradizionale che deve avere, le caratteristiche tradizionali però darci quel tocco moderno, quel tocco di stratificazione, un po' la francese, un po' di torta moderna quindi ho pensato di inserire una torta moderna dentro un Babà tradizionale Giunta alla sua seconda edizione, la competizione ha coinvolto i migliori maestri pasticceri chiamati a declinare in modi nuovi la tradizione dolciaria come ci spiega Antimo Caputo, amministratore delegato del Mulino Caputo terza generazione di maestri mugna e napoletani, nonché coordinatore della giuria La grande scuola di pasticceria italiana e partenopea oggi richiama la grande scuola della cucina della pasticceria francese quindi l'incontro di due grandi mondi che poi se vogliamo è la genesi del Babà il Babà è un dolce internazionale che parte in Polonia, arriva alla corte di Francia e poi viene a Napoli e che la competizione di due regine ne ha creato la magia e se vogliamo il successo quindi oggi il fatto che una pasticceria di scuola francese venga qua a Napoli a confrontarsi quindi siamo riusciti ad alzare moltissimo la stricella della qualità, il Babà è un dolce che nonostante una grande storia ha anche tanto da raccontare, ancora tanto da dare, ma per essere interpretato Ma alla fine quali sono gli ingredienti della vittoriosa sinfonia di Babà? Gli ingredienti sono mandarino, mandorla, fragola e vaniglia Non è particolarmente difficile, se conosciamo la varie bilanciature degli ingredienti la tecnica in cui inserirli è un gioco da ragazzi